Siamo cacciatori. No, lui è un cacciatore, io sono un fabbricante. Un fabbricante. Ho fatto questo perizoma, ho fatto le frecce, e ho fatto tutti i componibili della capanna. Io mi permetto di presentarci. E voi ragazzi che fate? Beh, secondo te? Lavoriamo la terra. Beh, lui lavora, io sono un mandriano. Tu sei un cazzone, ecco quello che sei. Ok, ci risiamo mio fratello Caino, io mi chiamo Abele. Tu ti chiami Cazzone. E ridai con questo cazzone, ma poi che significa? Cazzone. Per farla breve, cazzeggiatore, diminutivo di cazzone. Beh, dici che sono... Tu sei un cazzeggiatore di Dio, sei, sei un... Tu sei un cazzista. Qualcuno è irato perché Dio ha guardato il mio sacrificio con favore. Dio ha guardato il mio sacrificio con favore? Ma dico, è un cazzone integrale o cosa? Non lo so, vi conosciamo poco. Ma perché coinvolgi questi? Che ne sanno? Sono degli ebeti, vivono sugli altri. Eh, visto? Beh, scusate. Tu devi sempre fare il superiore, il bravone con tutti quanti. No, ma sempre più molto superiore di te. Più molto superiore? Lo sai che volevo dire? Quando ti ho portato a cazz e il culo! Ehi, ci hai preso! No, ragazzi! Ehi, sono antipolline! No, 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 facciamo soltanto... No, questo struzzo dello snove mi ha rivolto un insulto e io voglio che se lo rimacchi. Guarda che non siamo tanto presi. Proprio così, proprio così. No, avanti. Patti sotto dai! 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 Grazie a tutti.